Siamo qui con Mr. Monti, Barano Savoia 3-3, Mr. molto rammarico per questo pareggio, ma ancora una volta gol su pallena attiva. Purtroppo, forse la prossima volta per vincere le partite dobbiamo fare quattro. Abbiamo fatto, io penso, una delle migliori partite. Abbiamo sfiorato il gol del 4-2 con Arcamore, ci ha annullato uno che non so, non ho visto bene la panchina, ha detto che era fuori gioco. Abbiamo avuto delle ripartenze dove abbiamo sbagliato il passaggio, come a Pasquale Savio, l'ultima palla che Mario gli ha data troppo lunga, quella che ha preso il portiere. Alla fine, penso che i tiri in porta non ne abbiamo subiti, però abbiamo preso tre gol, le solite due palle inattive, una punizione laterale, una punizione fuori aria e un altro errore che abbiamo fatto, una palla che dobbiamo rinviare. Al primo tempo ci siamo messi a cincischiare. Insomma, abbiamo buttato due punti, abbiamo preso un punto facendo uno sforzo in mane, una partita combattiva da buoni valori tecnici, dove l'avversario ha portato via un punto senza concludere o fare azioni pericolose. In sera, a fine partita il guarderini ha richiamato l'arbitro per segnalargli qualcosa. Cosa è successo? Voleva segnalare che due della panchina nostra hanno detto qualcosa e insomma voleva segnalarle per penso fargli espellere. Infatti li ha richiamati adesso nel suo spogliatoio. Chi sono questi due? Mi sembra che era il massaggiatore, era il mio collaboratore Ciro Mennella. Grande prova del classe 99 Trani. Sì, il ragazzo ha fatto un'ottima partita, ha dimostrato buona personalità, buona tranquillità, la fisicità già ce l'ha, deve migliorare in alcune cose, è un ragazzo serio. Io già domenica scorsa gli diedi l'opportunità e adesso gliel'ho data dal primo minuto. Grazie.